Brava! Grazie, adesso la nostra animazione si sposterà dall'altra parte Cedo il microfono alla nostra vocalist clownezza Lady Glamour E un applauso al nostro presentatore Darix, un applauso, grazie! Ok, e allora si aprono le danze? Si aprono le danze, prosegue la musica con Mr. Poppins La nostra animazione raggiunge il centro della pista e dopo da lì si trasferirà al Diva Club Musica!